Tankoa Yacht annuncia la vendita della prima unità del nuovo TX450. Disegnato inizialmente partendo dal Tankoa T450 firmato da Giorgio Cassetta, il TX450 è una versione Explorer di quel 45 metri che si è poi evoluto in un progetto totalmente full custom. Questo l'attacco della notizia apparsa qualche giorno fa su ShipMag e sui maggiori organi di informazione specializzati della nautica, oltre che quotidiani prestigiosi come la Gazzetta dello Sport. E quella tipologia di imbarcazione, se non andiamo errati per le sue dimensioni, è una di quelle che la società genovese vorrebbe in una prima fase assemblare e poi interamente costruire nel cantiere ex privilege. Sulla vicenda, tanto per cambiare verrebbe da dire, è calato una pesante coltre di silenzio. A inizio mese, precisamente il 3 maggio, si era alzato il sipario con la conferenza stampa della società, nella quale il CEO di Tancò, l'ingegner Vincenzo Poerio, aveva illustrato il progetto su Civitavecchia con il relativo piano economico-finanziario e spiegato quelli che potevano essere gli impatti socio-economici dell'iniziativa, con le ricadute occupazionali stimate nella fase iniziale in circa 200 posti di lavoro. A quell'incontro con la stampa e la realtà sociale, al quale stranamente non avevano partecipato alcune associazioni e partiti tradizionalmente attenti ai problemi del lavoro, aveva fatto seguito un intervento del presidente dell'autorità portuale. Musolino aveva sostenuto che prima che sorga la Darsena Mare Nostrum, dove è previsto uno spazio apposito per la cantieristica, nelle more di un regime di transitorietà, l'autorità portuale non avrebbe comunque avuto problemi ad assegnare alla Tancòa uno dei capannoni della ex privilege dove poter iniziare l'attività. A quelle affermazioni, se non andiamo errati, arrivate pochi giorni dopo la conferenza stampa del 3 maggio, non c'è stato alcun seguito, perlomeno ufficiale. Il sipario si è di nuovo chiuso qua e nessuno sa, quindi, se Tancòa e l'autority si sono parlati e se la società sarebbe disposta o meno ad accettare la proposta di Molo Vespucci di assegnarle intanto uno dei capannoni e non l'intero complesso dell'ex cantiere. E considerando che la questione, qualora il programma presentato il 3 maggio scorso fosse reale, potrebbe interessare in prospettiva alcune centinaia di famiglie e rappresentare una possibile svolta per l'economia locale, non sarebbe male se anziché rimanere al buio il palcoscenico tornasse nuovamente ad illuminarsi. E quindi, tornando a parafrasare ancora una volta un celebre momento del film Aprile di Nanni Moretti, è davvero il caso di dire Tancòa di qualcosa.